io voglio fare un appello a a tanti ragazzi ehm i quali praticamente eh si si comportano sempre bene però devono questi ragazzi devono stare un poco più tranquilli un poco più sereni perché penso che anche da voi sono arrivate delle delle indicazioni di 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 giovanotti che eh si riuniscono io eh le forze dell'ordine stanno seguendo un poco tutte queste situazioni ma sono ragazzi e quindi di essere loro eh a capire che poi portano il contagio a casa e a casa ci ci sono i genitori e ci sono poi le persone anziane i nonni quindi stare un poco più tranquilli perché poi loro questi ragazzi nel periodo di marzo aprile e maggio sono stati coloro che ci hanno dato forza e ultimamente sembra che ci sono delle difficoltà in questo in questo in questa in questo punto dei di ragazzi che assieme si riuniscono e e che devono stare un attimo più attenti. Sindaco infatti un nodo cruciale riguarda proprio la questione di dei controlli in molte delle nostre interviste i cittadini hanno lamentato l'assenza di controlli sul territorio eh sicuramente rispetto al periodo del lockdown in cui si vedevano comunque si vedeva una presenza costante di polizia carabinieri eh sul territorio polizia municipale e adesso se se ne sente molto la mancanza come ma sempre in generale cioè non solo come torre ti rispondo Antonella nel periodo di marzo aprile eh c'erano delle chiusure e il come c'erano più chiusure quindi il controllo era più semplice adesso la cosa è completamente diversa noi facciamo degli incontri con le forze dell'ordine ma non è il periodo di marzo aprile quindi diventa molto molto più difficile controllare ma poi alla 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 base di tutto io penso che i primi controllori siamo ognuno non c'è più il sindaco cioè siamo noi siamo diventati infermieri e medici di noi stessi cioè pensare che io posso scendere in strada senza la mascherina o fermarmi con un gruppo di amici e parlare senza la mascherina ma io penso che nessun controllo ci debba essere in tal senso perché vuol dire che io sono 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 uno stupido sono sono una persona senza senso e con me le altre e allora io ritengo che noi ognuno di noi è diventato ripeto medico infermiere di noi stessi e controllore di me stesso un appello alla responsabilità rivolto ai più giovani arriva dal sindaco di torre del greco giovanni palumba in collegamento dalla sua abitazione il primo cittadino torrese intervenuto nel consueto approfondimento di tv siti in attesa dell'esito del tampone dopo la positività di un assessore della sua giunta e successivamente del presidente del consiglio comunale il sindaco ha fatto il punto sull'emergenza sanitaria in città commentando i dati dell'ultimo bollettino resta cruciale il nodo dei controlli molti cittadini e microfoni di tv siti lamentano la mancanza di forze dell'ordine sul territorio allora i controlli che si parla sempre di controllo dove è il polizia carabinieri di sera sicuramente ci sono perché lì c'è il 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 black out totale ma durante la giornata pensare che il vigilo urbano il poliziotto il carabinieri si deve fermare lo fa lo fanno anche l'abbiamo visto ancora anche alcune alcune immagini però voglio dire il controllo e noi stessi e devo dire e devo dire che su questo io non noto nessuno che sta senza mascherina è difficile che noi vediamo persone senza mascherina grazie a tutti grazie a tutti